Con i sussidiari dei linguaggi giunti scuola avrai le nuove guide giunti scuola con programmazione annuale per quadrimestre e bimestre, accoglienza e prove d'ingresso, sviluppo e recupero, verifiche bimestrali, strumenti per l'inclusione, prove su modello invalsi, compiti di realtà, guida al corso per aiutarti nella didattica quotidiana, valutazione, guide per il nuovo sistema valutativo, schede con obiettivi, griglie e tracce per compilare i documenti, il mio libro facile con percorsi facilitati e in più atlanti visivi e mappe visuali, formazione viva, percorsi sul libro di testo, incontri, webinar e laboratori, progetti speciali, leggimi ancora sulla lettura ad alta voce, con incontri con gli autori, problemi al centro, matematica senza paura.